Cari telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza al nostro giornale Fatti e Commenti, con noi Gaetano Alaimo, grazie Gaetano. Grazie Stefano, un rinnovato saluto a tutti i telespettatori a casa. Grazie e abbiamo con noi collegata telefonicamente in diretta l'onorevole Silvia Blasi, capogruppo del gruppo consigliare 5 Stelle alla regione Lazio. Buonasera a tutti. Grazie onorevole Blasi. Ecco, io comincerei subito, l'abbiamo fatto domandandolo la settimana scorsa all'onorevole Panunzi e volevamo sapere da lei riguardo al bilancio regionale che è stato approvato appunto a fine 2016, il bilancio preventivo, quali sono state le vostre osservazioni e i vostri cavalli di battaglia diciamo nella discussione in consiglio regionale? Il bilancio approvato recentemente sicuramente è un bilancio che non ci soddisfa, è un bilancio scarso, non prevede alcun sostegno per categorie deboli ad eccezione della norma di riduzione appunto della liquida IRPEF, una proposta che noi in realtà facciamo da anni, che la maggioranza non aveva mai accolto. È un bilancio che taglia circa 40 milioni di euro alle politiche sociali, 10 milioni di euro alla raccolta differenziata e 5 milioni di euro alla cultura. È un bilancio che non affronta il piano di rientro dal commissariamento della sanità della regione Lazio che ha, io ci tengo a ricordarlo perché appare poco sui giornali e sui media, ha una voragine per il 2015 di 1,7 miliardi di euro in aumento rispetto al 2014 che ammontava 1,4 miliardi di euro. In realtà non c'è stato mai un reale miglioramento della spesa sanitaria nella nostra regione ma un innalzamento delle tasse e un'incapacità della gestione di quella che è la spesa sanitaria della regione Lazio che è la maggior parte della spesa sanitaria del nostro bilancio regionale. Io in tutto questo posso dire che le proposte del Movimento 5 Stelle, alcune proposte non sono state accolte, una tra tutte è la razionalizzazione delle spese con il taglio delle indennità dei consiglieri regionali, abbiamo proposto di ridurre l'indennità da 7.300 euro a 5.000 euro lordi e la riduzione della diaria da 3.500 a 1.500. La nota positiva che ho l'occasione di comunicare è comunque l'accoglimento di alcune nostre proposte che riguardano il diritto allo studio. C'è il secondo anno che nel bilancio regionale vengono accolte delle proposte per tutelare gli studenti e le categorie più deboli all'università. I giovani con un'idea inferiore ai 10.000 euro avranno l'abolizione della tassa regionale per il diritto allo studio, oltre ad avere agevolazioni per l'acquisto dei libri per esempio, iscrizioni ai corsi di lingue, l'esenzione dell'abbonamento annuale e dei mezzi pubblici. Bene, grazie. Gaetano, a te scusa. Sì, buonasera. Un altro tema molto scottante è stato quello del CODRA, quindi del sistema dei trasporti regionali. È sulle cronache di tutti i giornali questa vicenda. Sappiamo che lei come capogruppo, il gruppo del Movimento 5 Stelle Lazio, ha fatto un'interrogazione e poi c'è stata quella che voi avete definito una non risposta in aula dell'assessore Michele Civita. Se ci può ricordare quello che è successo, quali sono i punti più spinosi di questa vicenda? Sì, questa è una vicenda veramente difficile e secondo noi neanche tanto sorprendente perché l'inchiesta della magistratura si apre su degli appalti truccati per la manunizione di Cotral, ma in realtà era sotto gli occhi di tutti quello che stava succedendo da tanto tempo. Anche noi l'abbiamo denunciato con delle interrogazioni e degli esposti alla Procura della Repubblica. I costi della manutenzione in Cotral sono lievitati negli ultimi anni, anche sotto l'ultima gestione. Venivano affidati appalti per milioni di euro complessivamente, tutto tramite affidamenti diretti a ditte amiche. La situazione di Cotral è paradossale ed è un vero e proprio basso di Pandora. Noi l'abbiamo affrontata con una question time, l'ultimo consiglio in cui tra l'altro abbiamo fatto presente a Civita che c'erano altre anomalie in altri bandi di gara secondo noi che non rispondono a quei canoni di buon funzionamento, di buona efficienza, di economicità soprattutto. Insomma sono state fatte recentemente in Cotral per esempio dei bandi di gara affidando per 3 milioni di euro, una ditta esterna, le piccole manovre di rimessa e spostamento degli autobus dentro i depositi all'entrata e all'uscita dell'autobus, il rabbocco dei liquidi, rifornimento del gasolio o ancora per 1,2 milioni di euro è stato dato in affidamento esterno la redazione dei cedolini e delle buste paga, come se dentro Cotral non esistesse un ufficio di gestione del personale e su questo l'assessore Civita in effetti all'ultimo consiglio regionale non ha risposto, non ha dato alcuna informazione o chiarimento rispetto a queste ultime vicende. Io quello che rilevo è che non ho osservato una vera e propria soluzione, un vero e proprio cambiamento in questi anni di gestione, ma in realtà c'è stato un continuum tra la vecchia gestione e quella nuova che è arrivata al 2013. Bene, ecco noi su questi argomenti specifici, prima di tutto la ringraziamo per la puntualità delle risposte, per la posizione che avete tenuto, soprattutto ha chiarito molto bene queste problematiche che avete messo in evidenza. Noi le auguriamo buon lavoro e poi sicuramente avremo modo di risentirci nei prossimi mesi. Grazie. Buonasera. Buonasera e grazie a voi. Buonasera, grazie. Ecco Gaetano, quindi abbiamo sentito un po', abbiamo avuto questo panorama dell'approvazione del bilancio regionale, prima con l'onorevole Panunzi e poi con l'onorevole Blasi. Ecco io con te se vuoi passerei a fare una breve rassegna soprattutto di quello che sta succedendo in consiglio comunale a Viterbo, nell'amministrazione comunale di Viterbo che so che segui con particolare attenzione sul nostro giornale New Tusha. Ecco c'è stata la convocazione di un consiglio comunale recentissimo per il 19 gennaio e però abbiamo letto che sono stati approvati per ragioni tecniche, si dice per appunto il mancato funzionamento dell'impianto, ecco di amplificazione dei microfoni. Non è stato trattato, io ho qui preso dal nostro sito l'ordine del giorno che era un ordine del giorno veramente con tantissimi punti. Ecco, una tua valutazione per capire un pochettino la situazione e anche un po' il riferimento alla vicenda dell'assessore Barelli e del cattivo rapporto con la stampa. Sì, innanzitutto rettifico, se mi permetti, non è un cattivo rapporto con la stampa, io direi una grande gaffa, questo lo dico perché siamo sempre trasparenti e quindi non stiamo utilizzando questi mezzi per dare addosso a nessuno. I fatti sono questi, allora l'assessore Giacomo Barelli che ricordiamo è uno degli assessori appunto tra i più citati proprio sulla stampa, questi sono dati oggettivi anche perché comunque si è mosso su tanti fronti, lo ricordiamo più che altro per il patrimonio UNESCO qualche anno fa appena eletto nella giunta Michelini e successivamente per iniziative come il Christmas Village che l'ha visto in particolare, parliamo come assessore ovviamente, anche se sappiamo la sua vicinanza politica a Filippo Rossi che è un po' la mente creativa, il direttore artistico del Cafeina Village, Christmas Village. Allora è successo questo che per la giornata di ieri mentre stiamo registrando oggi è il 20 gennaio, quindi il 19 gennaio, era stata proclamata la nuova sessione di consiglio comunale con decine di articoli appunto di ordini del giorno. Un microfono, qualche microfono fasullo nel senso che non ha funzionato, ha portato dopo un primo ordine del giorno approvato al tutti a casa, non è la prima volta che questo succede, diciamo che da questo punto di vista la giunta Michelini è un po' sfigata, tra virgolette lo diciamo con un po' di ironia perché sono stati tanti consigli andati saltati un po' per la mancanza del numero legale ma anche per altri motivi, in questo caso ci si è messo anche l'aspetto tecnico. Volendo entrare nei fatti come facciamo spesso, noi l'abbiamo definita tra virgolette selezione della stampa, che cosa è successo? È successo che nella giornata, una settimana da fa più o meno, poco più, è stato dato solo su alcune testate giornalistiche, tre in particolare che noi per correttezza non nominiamo, una notizia al nostro giudizio molto importante, ossia l'avvio concreto del futuro museo delle macchine di Santa Rosa, l'abbiamo detto tante volte con il presidente del sodalizio dei Facchini, Massimo Megarini, che possiamo definirlo un nostro amico ormai, l'abbiamo detto anche con lo stesso sindaco al telefono, l'abbiamo detto con lo stesso assessore Barelli. Che cosa è successo? C'è stata la presentazione del deposito delle macchine di Santa Rosa, 5 in particolare, che sono stati i maggiori pezzi ripuliti, risistemati, catalogati e messi in un deposito sulla strada tuscanese. Sarà fatto poi presumibilmente un bando per il futuro museo delle macchine, che ovviamente starà in una zona quasi certamente del centro storico di Viterbo. A questo appuntamento sono stati appunto neanche invitati, sono stati o chiamati o comunque si sono ritrovati tre testate giornalistiche sulle 43, se non mi sbaglio, che sono regolarmente iscritte tra cartacee online e televisive e radiofoniche alla Cancelleria del Tribunale di Viterbo. Quindi abbiamo fatto una nota, questa è una notizia, quindi possiamo darla, una nota oggettiva al sindaco di Viterbo Leonardo Michelini, in utuscia.it e altre cinque testate, che io ringrazio appunto per la collaborazione, regolarmente protocollata e mandata via PEC, con la quale chiedevamo al sindaco e all'associazione stampa romana, con Gianni Tassi, che è il referente provinciale, che io ringrazio vivamente perché si è subito mossa interessato, di chiarire su quello che stava succedendo, in quanto l'assessore, malgrado sono stati tantissimi tentativi di collegamenti e quindi di avere delle risposte, non si è pronunciato. È intervenuto, e ringraziamo anche lui, l'onorevole Giulio Marini, che doveva fare un'interrogazione proprio nella giornata di ieri, purtroppo per questo problema tecnico è saltata, e lo stesso Movimento 5 Stelle, approfitto per ringraziare anche il consigliere comunale De Dominicis, che hanno fatto un comunicato stampa in cui criticavano questo atteggiamento che noi abbiamo fatto un editoriale nell'epoca delle trasmissioni streaming, televisive e in tempo reale, è sconcertante questo è il giudizio. Noi manteniamo il nostro giudizio di apertura, l'assessore Barelli con il quale noi non abbiamo niente in particolare, però parliamo di libertà di stampa e soprattutto di diritto all'informazione dal primo all'ultimo dei giornali. Benissimo, ti ringrazio. E ti ringrazio per l'opportunità che mi hai dato. Ecco, di questa precisazione che ci vede, lo dobbiamo dire, anche perfettamente aderenti e d'accordo appunto per proprio il servizio che noi svolgiamo proprio per informare i cittadini. Ecco, purtroppo dobbiamo tornare un pochino a parlare sia dell'aspetto del terremoto che ha colpito nuovamente, sappiamo in modo drammatico purtroppo, ma ci sono anche delle notizie positive che si stanno ritrovando appunto i dispersi presso quell'hotel appunto alle pendici del Gran Sasso e diciamo questo fatto del terremoto e soprattutto dell'emergenza che questo ha portato, vale a dire il coinvolgimento tutto sommato delle strutture di emergenza della protezione civile. Noi abbiamo un amico carissimo, Marino Cantales, che abbiamo contattato che continuamente appunto sta ancora credo che sia... Sì, dovrebbe tornare nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni proprio sul fronte del terremoto. Ecco, Gaetano, come ha reagito l'apparato diciamo nostro viterbese che poi ha messo a disposizione diciamo mezzi e uomini per questa emergenza del terremoto? Allora, innanzitutto va il nostro applauso a tutti coloro che sono partiti da tutta la provincia di Viterbo per le zone terremotate e poi per il dramma della neve che ha portato alla notizia di queste ore, fortunatamente ci sono delle persone che sono rimaste vive nella struttura alberghiera sprofondata. Per quanto riguarda la provincia di Viterbo, la provincia ha proprio commento, ha messo a disposizione decine di mezzi operativi, tra cui fino a quando è uscito il comunicato ufficiale della provincia, oltre 2.500 quintali di sale che sono stati utilizzati un po' in tutte le arterie più colpite, in particolare la zona di acqua pendente e la provincia di Cimina, quindi questo è il primo dato. Ci sono tutte le protezioni civili comunali in movimento che hanno aiutato sia per quanto riguarda le ultime scosse di terremoto e anche la zona della provincia di Viterbo per le nevicate. C'è da dire che, parlo adesso velocemente del terremoto, che c'è stato un esito positivo dei controlli del tavolo di coordinamento fatto in prefettura che era presente il sindaco di Viterbo Leonardo Michelini, il presidente della provincia Mazzola e successivamente tutti i dirigenti scolastici delle maggiori scuole della provincia. quindi nessun danno alle strutture scolastiche, solamente tanta vigilanza e soprattutto tanta voglia di uscire da questa situazione che purtroppo è un fenomeno naturale e non sappiamo se e quando finirà. Quindi allerta continuativa tutti i giorni. Bene, io vorrei concludere questo nostro dialogo come sempre molto attivo e preciso sugli argomenti che trattiamo relativamente un po' alla situazione e alla prospettiva politica che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Sappiamo che quest'anno e il prossimo anno saranno degli anni di elezione, le elezioni, i responsi elettorali dei cittadini sono continui, andranno a rinnovo diversi comuni importanti e tutto sommato sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, anche nel Movimento 5 Stelle che un po' agisce in modo autonomo, si stanno affilando le armi per predisporre la migliore campagna elettorale. Nel PD abbiamo notato un certo protagonismo, ci si sta organizzando anche da parte del Mori, di questo movimento appunto moderati e riformisti. Che è esterno al PD, nella guarizione di centro-sinistra sicuramente. E quindi d'altra parte nel centro-destra si cominciano a fare dei nomi per sia le liste dei comuni che andranno a rinnovo e sia nel 2018, se non vado errato, per il comune di Viterbo. Ecco, da parte tua, come sempre, in modo che ti caratterizza sintetico, come vedi questa fase della politica della nostra provincia? Allora, abbiamo sentito l'onorevole Panuzzi la settimana scorsa che ha già dato qualche input molto importante. Noi abbiamo parlato di due, di quelli che consideriamo i comuni più importanti al voto, sia Montalto di Castro e Tarquinia che sono sulla litoranea. Quindi, per quanto riguarda Montalto, c'è una situazione che potrebbe, lo diciamo ovviamente al condizionale, al mio giudizio, di vedere il centro-sinistra e il PD alla guida del comune. Questo per alcune sensazioni, io parlo a titolo ovviamente personale, non che l'attuale sindaco abbia lavorato male, però sappiamo che l'attuale sindaco di Forza Italia, Sergio Caci, ha una coalizione molto mista, quindi non è centro-destra, ma è una coalizione che vede elementi, come diceva Panuzzi, di centro-destra e di centro-sinistra e liste civiche. Per quanto riguarda Tarquinia, c'è l'eredità di Mauro Mazzola, che la stanno cercando di prendere sia esponenti del suo partito, sia un esponente, ovviamente non facciamo nomi per motivi ovvi, dei moderati e dei riformisti che tu hai citato. È una convivenza difficile a Tarquinia, perché sappiamo che c'è stato appunto il dimissionamento da parte di Mazzola di un esponente dei Mori molto influente e questo quindi sarà probabilmente uno dei candidati alla prossima carica di sindaco. In generale sappiamo pure che il comune di Viterbo andrà nel 2018 come la regione Lazio, se andrà a scadenza, a mio giudizio la regione Lazio per una serie di concatenazioni di eventi potrebbe andare anche quest'anno probabilmente al voto e staremo poi a parlarne magari quando faremo una trasmissione strettamente politica. Per il comune di Viterbo credo che si andrà a scadenza regolare con Leonardo Michelini che, ripeto, ha avuto un bel da fare per mettere insieme dei pezzi di coalizione, anche qui che provenivano alcuni elementi della precedente giunta marini, alcuni elementi civici in particolare, ripetiamo, Filippo Rossi e l'assessore Giacomo Barelli e il PD, quindi i moderati e i riformisti stessi. Quindi una situazione in evoluzione, ne parleremo presto. Bene, Gaetano, io ti ringrazio come sempre della collaborazione, ringraziamo sia i nostri telespettatori e sia i lettori di Newtusha e vorrei anche, lo facciamo e abbiamo il dovere di farlo, anche tutti gli operatori di Teleorte, la redazione e soprattutto la regia che ci permette appunto di andare in onda. Sì, io periodicamente lo faccio altrettanto, ringrazio la città di Orte che mi ospita, come dico sempre, è una bella esperienza che continua. Grazie telespettatori e alla prossima settimana. Buonasera.